... Benvenuti a tutti in questo nuovo video da Mobile Phone Island. Come sapete l'applicazione ufficiale di Facebook è una delle più pesanti e infatti rallenta i telefoni meno recenti e consuma parecchia batteria. Oggi vi mostrerò quali altre applicazioni alternative si possono utilizzare per accedere a Facebook o dal vostro smartphone o tablet. Questa guida è soprattutto per chi ha un telefono non molto recente, quindi direi che l'S3 in questo caso per esempio non è molto recente, quindi anche l'S3 del 2012 direi che sui telefoni fino al 2012 va bene, però va bene anche sui più recenti. Però dubito che se uno ha l'S5 o l'S6 si prevede l'applicazione di Facebook perché comunque... Però comunque questa guida è anche per chi ha un telefono di fascia bassa o media e anche per quelli che hanno tipo un giga di RAM in questo caso perché per esempio se usate l'applicazione ufficiale gira bene, magari ci mette un po' a caricare, però se poi volete sfogliare le notizie su Facebook e chattare con Messenger in quel caso ha qualche rallentamento. Poi comunque io ho l'S3 che è moddato, quindi qualche problema in più di sicuro ce l'avrà rispetto alla ROM stock, anche se comunque ha dei miglioramenti. E poi questa guida è anche per chi ha più account Facebook e quindi ha bisogno di altre applicazioni per accedere agli altri account. Comunque iniziamo subito. Io Messenger lo lascio perché comunque è comodo poter rispondere ai messaggi da ogni applicazione e comunque usando le applicazioni alternative non dà problemi. E' la copiata Facebook e Messenger che rallenta il telefono, non uno o l'altro. Iniziamo subito da un'applicazione che comunque è ufficiale e si chiama Facebook Lite, che è questa qui con l'icona qua. Qui ho un'icone pack, però comunque è l'icona e ho una F blu sullo sfondo bianco. E però è disponibile sul Play Store soltanto per i paesi emergenti, quindi in Italia non lo troverete. La potete scaricare o cercando la pick up su Google oppure da Aptoide. Io ho fatto da Aptoide perché è comodo che ci sono gli aggiornamenti, infatti si è aggiornata anche da poco ed è migliorata comunque. Io la uso anche sul Galaxy Next e devo dire che sono soddisfatto. Vediamo un po' da cosa è caratterizzata. Come vedete qua ci sono i feed, le varie notizie. Qua si può pubblicare un aggiornamento di stato, potete scrivere lo stato, eccetera. Poi taggare, aggiungere la posizione, eccetera. Facciamo elimina post. Poi qua ci sono le richieste di amicizie, qua i messaggi e quindi a Messenger integrato. Quindi se usate questa non siete obbligati a usare Messenger. E qua le notifiche, qua la ricerca e qua c'è il nome dell'account, poi la chat, foto, cerche, impostazioni. Insomma è un'applicazione completa. È poco più di un browser diciamo, però comunque ha le notifiche quindi è molto più comodo rispetto ad accedere da Chrome per esempio. Che comunque sembra che Chrome abbia il supporto alle notifiche. Quindi a breve, anche per chi entra sul sito mobile da Chrome, avrà le notifiche. A me ancora non funzionano, però comunque è presente nei change log. Poi passiamo a un'altra applicazione non ufficiale, che si chiama FBX, tutto maiuscolo. Infatti è come icona, ha una X. E non so perché è stata rimosso da dal Play Store. Però comunque su Google e su AppToyd la trovate tranquillamente. e la potete installare. Io mi trovo molto bene perché apre il sito mobile e funziona bene con tutte le funzioni. E poi manda anche le notifiche, però non dei messaggi. Quindi per i messaggi vi conviene usare un'altra applicazione. O usate Messenger oppure ci sono tante altre applicazioni. e alcune le vedremo anche noi. FBX, come altre applicazioni che vi farò vedere nei prossimi minuti del video, presentano degli annunci pubblicitari nella parte sottostante. Quindi vi consiglio di usare applicazioni come Adblock, eccetera, per rimuoverli. Per avere un maggior spazio dell'applicazione. Infatti io, come vedete, qua sotto il banner non c'è perché io uso AdAway. Poi passiamo alla prossima applicazione. Questa è finalmente sul Play Store. Anche se poi è stata rimossa, poi è stata rimessa. Dunque si chiama FBM. Ed è questa qui con l'icona con scritto FBM. Eccola qua. Anche questa è soltanto un browser che mostra le notifiche. Cioè che è un browser che mostra la versione... È un browser che per accedere alla versione mobile di Facebook è presente alle notifiche. Soltanto per le notifiche, non per i messaggi. Quindi anche in questo caso bisogna usare un'applicazione alternativa per la chat. E funziona molto bene perché non mi ha mai dato i problemi. Anche qua ti sarebbe il banner, ma io l'ho tolto con AdAway. E poi c'è Disa che è un'applicazione che è abbastanza recente e funziona molto bene. È un'applicazione che racchiude varie chat. Per esempio si possono usare gli SMS, si può usare Facebook, si può usare Whatsapp. Non vi garantisco che non vi bannino. Perché la funzione è presente, però essendo non ufficiale potrebbero bannarvi momentaneamente. Io infatti non l'ho provato perché comunque ormai Whatsapp ha il material design e quindi non vi serve più comunque facendo aggiungere servizi. Fa vedere soltanto Whatsapp e messaggi. Io uso soltanto Facebook. E come vedete qua, qua compaiono l'elenco dei messaggi che arrivano. E facendo clic su più, sul FAB, si potrà scegliere a chi mandare un messaggio. Funziona molto bene, mi trovo molto bene comunque. Ve la consiglio anche questa. Buon abbinamento con FBX o FBM. A meno che non usate Lite o Messenger direttamente. Poi ci sono tante altre applicazioni che mostrano il sito mobile di Facebook. Infatti per esempio c'è TintFoil, FastLight. E non ve le faccio vedere perché comunque sono esattamente come quelle che vi ho appena fatto vedere. Però senza le notifiche. Quindi se avete magari un account che usate di meno, lo potete usare. Oppure potete usare Lite e questo in modo che Lite vi manda le notifiche e entrate da FastLight. Oppure potete creare un semplice collegamento di Chrome al desktop. Così cliccate sull'icona e vi apre il sito mobile di Facebook. Il problema di tutte queste applicazioni qua sul sito mobile è che di recente Facebook ha tolto la possibilità di caricare le fotografie. Quindi o dal browser mettete il desktop mode oppure usate questa applicazione che ho trovato io che si chiama Rectem for Facebook ed è una vecchia versione dell'applicazione ufficiale che oramai non è più ufficiale che come vedete qua ci sono le notizie, profilo, amici, messaggi, luoghi, gruppi, eventi, foto, chat, infatti c'è un po' di tutto. E in più qua ci sono le notifiche quindi è completa non è tanto bella però comunque si può usare bene Facebook qua si possono fare gli stati e poi premendo qua si possono caricare le fotografie quindi è comodo da usare in abbinamento alle altre oppure direttamente questa che è completa. Poi invece per gestire i messaggi io vi consiglio questa applicazione qua che si chiama Black for Facebook Messenger che non è altro che una vecchia versione di Messenger temata in nero però c'è il problema che molto spesso non arrivano le notifiche funziona a periodi a me settimana scorsa è capitato che abbia funzionato un giorno e poi basta quindi dovete sempre entrare e aggiornare questa applicazione e a pagamento su Play Store costa un euro e qualcosa però se funzionasse a me piacerebbe però siccome funziona quando vuole lei non la uso quasi più dunque su qua si può scegliere a chi mandare il messaggio per i messaggi c'è Disa che vi ho appena fatto vedere che funziona molto bene poi ce ne sono tante altre per i messaggi però non ve le consiglio perché non le ho ancora provate bene ne ho trovate anche altre però comunque se andate sul Play Store ne ho trovati tantissime basta scrivere Facebook Chat e come vedete questa qui è una simile a quella che vi ho fatto vedere nera Green V Socializer for Facebook come vedete è come quella che abbiamo visto prima però colorata di verde quindi niente di speciale poi faccio vedere che ci sono tante altre applicazioni che io non ho installato alcune le ho provate altre no però per esempio mettendo Facebook oltre quella ufficiale fa vedere questa qui questa è Fast for Facebook poi c'è sempre il gestore delle pagine che io uso sempre ed è comodo per gestire la pagina di Mobile Phone Island poi c'è questa Asa Chat che non è male poi c'è quella per i gruppi che è ufficiale questa qui una che io ho fatto vedere che vi ho citato prima e poi tante altre che non vi sto a far vedere tutte comunque cercate sul sul Play Store e troverete di sicuro quella che vi piace però secondo me le migliori ve le ho fatte vedere sono quelle che io personalmente mi trovo di più quindi questi sono i modi per accedere a Facebook senza usare l'applicazione ufficiale quindi si risparmiano su prestazioni e sul consumo della batteria vi ricordo il nostro indirizzo email mobilephoneisland.gmail.com e poi ci sono il nostro account Facebook Twitter Google Plus e c'è anche il nostro blog per questo video è tutto ci vediamo nel prossimo video dalla Mobile Phone Island ciao ciao